Questa palla rimane sempre in questa stazione dunque quello che abbiamo fatto dal lunedì lungo una volta che stoppo la palla cosa faccio Filippo? Bravo, passo e devi stare attento perché dall'altra parte arriva il tuo compagno che fa un incrocio, dunque cosa comporta? Che devi tenere? La faccia, la testa anche, la faccia magari così la testa è alta, ok? Facciamo così poi vi dico le varianti intanto facciamo questo, quello che mi interessa è trasmissione e ricezione Voi andate di là e poi continuate a lavorare una volta che siete di là venite di qua loro vengono di qua e poi ci incrociamo senso opposto, ok? Stai pronti anche qui, la palla ce l'abbiamo? No, no Stai pronti, si parte assieme? Via Via, continua con questa palla La palla non si deve mai fermare raga Via, continua Forza Vai bene il passaggio Forza Ok Forza Dai Gabri Continua Gabri Vai giocata la palla e puoi fare l'esercizio Oh arma 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 Dona indietro Dona indietro Gioca la palla e scappa Forza non possiamo fermarci Ok, ora vai Gioca la palla 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 Controllo e gioco Vai Ok Controllo e gioco Brava Dai Eri, dai Eri Controllo e gioco Brava Dai Vai Vai Non prendiamo eh Stiamo scaldando Ok Buono Si, si Filippo Si è pulita di prima Dai Dai Ehi Francesco Torna indietro È un'ora che lo stiamo facendo Dai Che cresci Vai Dai Ehi Torna indietro Giochi la palla e poi vai Capisco quelli alti ma non li passi Dai Veloce Gioca, gioca la palla Gioca e vai Veloce Gabri Veloce Gioca e vai Continua Gioca e vai Vai Veloce Gioca e vai Ehi Torna indietro Gioca e vai Veloce Nella dianese sei tu Dai 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 Eri Dai Eri Eri sei intelligente eh Travamo Veloce Veloce Dai Eri Eri 3-2 Vai Vai Eri Grande Gabri Ehi Filippo Vegna Vai Vai Guardi ad alzare i piedi Veloce Gioca La palla passa sotto ma secondo me riesce ad alzare Gioco dai dai Tindaro Prova a saltare Cerchiamo di fare un passaggio decente ragazzi Ok Ok Bravo Cri Dai Controlla Armando Gioca Oh Si è pulita la gioco di prima Questa la fessi eh Eh Bravo Dai Che minuti dai Dai Gabri Tindaro Grande Oh Grandissimo Tindaro Dai 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 Eri Passa Bravo Vai Vai Partiti a mille eh Forza